Il sito minerario di Sosenatos, a Lula, è candidato a ospitare una delle più grandi infrastrutture di ricerca che verranno realizzate in Europa, Einstein Telescope. Einstein Telescope è un osservatorio di onde getazionale di terza generazione, che è composto da tre tunnel sotterranei di circa 10 chilometri, disposti a triangolo equilatero, che ospiterà i nuovi rivelatori di onde getazionali basati su tecnologia chirogenica. È una grande scommessa per questo territorio, è una grande scommessa per la comunità scientifica, perché speriamo di poter osservare con le scienze di buchi neri o di stelle neutroni che generano onde getazionali in pressoché tutto l'universo e questo ci permetterà di comprendere meglio l'evoluzione, magari la nascita dell'universo e i meccanismi che sono all'interno delle stelle neutroni, quindi è una ricerca di astrofisica e di fisica fondamentale. È chiaro che un'infrastruttura di questo tipo ha un grande impatto sul territorio, sia dal punto di vista dell'impatto socio-economico che anche un impatto culturale, perché pensiamo di portare qua una comunità di alcune centinaia di scienziati da tutto il mondo che dovranno alloggiare all'interno della regione e porteranno le loro famiglie e questo determinà una crescita a livello locale. Questo richiederà anche delle infrastrutture non solo tecnologiche, che sono quelle che ospitano il detector, ma anche delle infrastrutture che servono per la vita di questa comunità e delle sue interazioni con la popolazione locale. Quindi noi pensiamo di aver bisogno di spazi per la socializzazione, spazi per le attività di apprendimento, di divulgazione scientifica. Questo è un qualcosa che deve essere studiato in un ambito multidisciplinare, ovviamente dal punto di vista dei fisici per quanto riguarda i requirement, le necessità tecnologiche del sito, dal punto di vista degli ingegneri come si realizza un sito del genere e dal punto di vista degli architetti come si collocano queste infrastrutture nel territorio e come si riesce a coniugare qualcosa per cui l'Italia è famosa, quindi l'efficienza e la qualità scientifica con la bellezza. Questo credo che sia il mandato e la missione di questa comunità multidisciplinare che dovrà comprendere come riuscire a fare qualcosa efficiente, ma che sia anche bello e funzionale. Grazie a tutti.